stop alla violenza in 1200 a saltara per la fiaccolata in memoria di ana cristina salgono 11 casi di dengue a fano tre giorni di disinfestazione della città disagi da mal tempo crollano temperature e alberi centrodestra pesarese indagine su gestione e trasparenza di fondazione pescheria pesaro capitale della cultura apre la cucina delle idee una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti ad una nuova edizione di rossini e news telegiornale di oggi venerdì 13 settembre che apriamo con le immagini delle oltre mille fiaccole che ieri sera hanno illuminato la notte di saltara oltre mille persone in corteo per dire no alla violenza a pochi metri dal luogo dove è stata uccisa la mamma di tre figli ana cristina duarte correia appena pochi giorni fa vediamo il servizio sono oltre 1200 le luci che si accendono nella notte del 12 settembre ed iniziano a camminare dal cimitero del borgo di saltara di coglie al metauro in direzione di piazza corso matteotti e la fiaccolata per ana cristina duarte correia la donna di origini brasiliane madre di tre figli uccisa nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre dal marito con cinque coltellate all'addome e la risposta di un territorio dalle amministrazioni dei comuni alla prefettura dalla questura alla comunità brasiliana tutti rispondono alla chiamata per gridare basta alla violenza contro le donne la presenza credo che sia l'elemento principale per dimostrare vicinanza alla famiglia ai figli di questa coppia di questa mamma uccisa barbaramente dal marito e a tutta una comunità perché sono tutti rimasti dilaniati dal dolore e dall'indignazione una presenza massiccia al quale io devo ringraziare tantissimo soprattutto per la presenza anche di altre comunità altri rappresentanti di comunità altri sindaci nei nostri territori la presenza del capo di gabinetto del perfetto la presenza del questore tutti a testimoniare che uniti istituzioni e cittadini si può provare ad arginare o sconfiggere questa piaga in mane perché ancora oggi sentirsi dire che come ho sentito dire mi sono ribellato con forza questa affermazione che ha sbagliato lei a rientrare in casa credo che sia un'affermazione abberrante e siamo qui lo ripeto perché dobbiamo dare forza dare conforto dare speranza dare sicuramente come dire la voglia di provare le donne a denunciare atti di violenza perché non si debbano sentire sole perché non si debbano sentire giudicate soprattutto non si debbano sentire come coloro che vengono accusate di aver loro stesse agevolato o favorito l'atto di violenza nei loro confronti e questo è un segno di cultura di arretratezza culturale importante come diceva lo stesso Mattarella è una sconfitta della nostra società e dobbiamo imparare tantissimo noi uomini ancora a crescere nel gestire le relazioni, nel gestire i rapporti, l'affettività e soprattutto saper gestire il conflitto e il confronto con le donne dove normalmente usciamo sconfitti e quest'atto di vigliaccheria lo ha dimostrato numerosa la fiaccolata e la presenza delle donne della comunità brasiliana che chiedono giustizia per Ana e maggiori tutele per le donne poiché troppo spesso le loro denunce e le loro richieste di aiuto non vengono ascoltate hanno distrutto una famiglia, una famiglia con i bambini che oggi non si sa che fino faranno e questo ci toglie veramente un pezzo di ogni una di noi noi siamo di una comunità di qua vicino, io in particolare non conoscevo lei di persona però sono qua per dire basta violenza, basta femminicidio, basta basta violenza, basta, 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 giustizia, giustizia, giustizia quello che fa una donna nella vita nessuno ha il diritto di togliere la sua vita nessuno, nessuno, perché noi siamo liberi di fare qualsiasi cosa e solo Dio si può togliere la vita di una persona, soltanto lui ha questo potere ma nessun uomo e nessuno deve togliere la vita a una donna per quello che fa lei se è vero o non è vero, nessuno, nessuno, basta, basta, basta salgono ad una dozzina i casi accertati di febbre tropicale dengue nelle comune di Fano che ora si prepara tre giorni di disinfestazione da zanzare per contenere il contagio, vediamo a Fano continuano a spuntare casi di febbre dengue malattia indotta dall'omonimo virus che si trasmette con la puntura delle zanzare e non per contagio diretto dopo il primo episodio accertato mercoledì nel quartiere di Centinarola è cresciuto il numero di casi acclarati dall'azienda sanitaria territoriale in base ai dati disponibili al momento abbiamo 11 casi confermati di cui 10 sono residenti del comune di Fano e uno residente del comune di San Costanzo poi abbiamo una situazione di altri due o tre casi che siamo in attesa agli eventuali approfondimenti diagnostici Dopo la prima disinfestazione circoscritta al quartiere di Centinarola il comune di Fano ha disposto un'opera di disinfestazione che è stata fatta slittare per mal tempo Ser Filippo ha annunciato che comincerà dalla mezzanotte di sabato nelle zone di Vallato, Centinarola e nel centro storico ovvero in quelle aree in cui sono stati confermati i casi che proseguiranno fino a domenica notte interventi che rispondono a indicazioni sanitarie sul contenimento di una patologia che ha già contato più di 400 casi diagnosticati in Italia in questo 2024 La dengue è una malattia che non si trasmette da uomo a uomo si trasmette attraverso la puntura di una zanzara infetta la zanzara punge una persona che molto probabilmente è rientrata da un viaggio da una zona endemica magari asintomatica in fase viremica la zanzara la punge dopo un periodo di incubazione intrinseco la zanzara diventa contagiosa e pungendo un'altra persona può trasmettere l'infezione ma l'infezione nella maggior parte dei casi è asintomatica dal 40 al 80% dei casi è completamente asintomatica è pasta misconosciuta nelle forme sintomatiche invece la presentazione più comune è quella di una malattia febbrile a specifica di entità lieve e moderata soltanto in casi eccezionali la patologia può avere un andamento più grave questo in genere si verifica nei soggetti che sono avanti con l'età o hanno delle comorbosità e un fattore di rischio importante per malattia grave è la seconda infezione cioè l'infezione che colpisce i soggetti che sono stati già infettati precedentemente Rassicurazioni sanitarie sulla contrazione del virus che resta spesso asintomatico rassicurazioni da parte del sindaco Serfilippi che getta acqua sul fuoco di facili allarmismi su un'opera di disinfestazione che non richiederà un coprifuoco si potrà infatti circolare liberamente senza restrizioni così come tutte le attività commerciali potranno rimanere aperte il massiccio trattamento insetticida dovrebbe infatti imprimere un importante contenimento della propagazione della stessa febbre considerando il numero di casi anche la localizzazione dei casi abbiamo raccomandato al comune di fare un intervento urgente di disinfestazione in tutta la città anche con trattamento larvicida in modo di avere un effetto a lungo termine e quindi evitare interrompere la catena di trasmissione attraverso le zanzare noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo la zanzara tigra dal 1990 in Italia è presente la zanzara tigra ed il salbobictus che non è un ottimo vettore della dengue come la zanzara tropicale ed il sergitti ma è comunque un vettore che può veicolare il virus e quindi mantenere la catena di trasmissione e quella di oggi è stata una giornata con pioggia pressoché costante che ha registrato anche qualche pericolosa caduta di alberi come quello che vedete nel pieno centro a Pesaro dove nel viale della liberazione nelle parco di fronte alla caserma è crollato un grosso albero le cui radici di velte hanno danneggiato anche parte della sede stradale la polizia locale ha transennato tutta l'area parco in seguito ad un crollo che non ha coinvolto persone in transito e dalle maltempo cambiamo argomento e parliamo di politica perché continuano gli approfondimenti di indagine dei consiglieri comunali pesaresi delle centro-destra dagli affidamenti diretti alle associazioni opera maestra e stella porale ora l'attenzione si è focalizzata sulla gestione e la trasparenza della fondazione Pescheria non si ferma alla periodica riunione della commissione enti partecipate il lavoro di indagine apparecchiato in queste settimane dai consiglieri comunali pesaresi del centro-destra che da tempo hanno allargato la lente di ingrandimento dagli affidamenti alle associazioni opera maestra e stella polare al modo soperandi della fondazione Pescheria che nell'anno di Pesero Capitale della Cultura ha impennato il quantitativo di soldi pubblici da gestire un tema che è stato oggetto di una conferenza stampa indetta dagli stessi consiglieri che stanno facendo richiesta di accesso agli atti per quanto riguarda pagamenti e rendicontazioni una fondazione Pescheria che ora sarebbe anche attenzionata dall'ANAC per la mancata adozione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza abbiamo sempre messo in luce la difficoltà che avevamo con la fondazione Pescheria nel 2021 c'è stata questa modifica statutaria che ha stravolto la natura della fondazione mi ricordo che in consiglio comunale cercammo in tutti i modi di modificare lo statuto della fondazione per permettere al consiglio comunale di non essere un mero erogatore di risorse ma di poter riuscire anche a garantire la propria presenza con trasparenza, con analisi e con capacità anche di decidere quali iniziative portare avanti purtroppo la maggioranza bocciò l'emendamento e ad oggi ci troviamo a non sapere che cosa la fondazione Pescheria stia facendo anche e soprattutto nell'ottica della capitale italiana della cultura abbiamo scoperto in questi giorni con questi documenti che arrivano centellinati che la fondazione gestirà alla fine dell'anno probabilmente circa 5 milioni di euro di cui il 60% proveniente da sponsorizzazioni private ecco io credo che sia importante noi come centrodestra abbiamo proprio richiesto che la fondazione ci fornisca tutti i mandati di pagamento che ha fatto in questi anni nei confronti di enti terzi per capire come queste risorse poi siano state investite un'altra importante criticità che abbiamo rilevato era la mancanza del piano triennale anticorruzione che era obbligo a redigere già che il 27 giugno venne redatto il bilancio e quindi vi era la necessità di redigere questo piano triennale anticorruzione e di pubblicarlo nel sito di questo ne abbiamo parlato e ne abbiamo fatto menzione nell'interlocuzione avuta con il prefetto già qualche settimana fa analizzando le fatture e la rendicontazione che abbiamo sul 2023 abbiamo scoperto che non più tardi del luglio 2023 Fondazione Pescheria ha affidato un incarico per la comunicazione ad una società che si occupa di comunicazione per cui nulla di strano sotto il sole la lievito consulting peccato che poi nell'analisi dell'attività di questa società è emerso che proprio dall'estate 2023 questa società si occupa anche della comunicazione dei gruppi parlamentari del Partito Democratico dai quali riceve mensilmente un compenso per la comunicazione e così anche con una ricerca che tutti possono fare sembra si sia occupata della campagna elettorale in ottica europea dell'ex sindaco Matteo Ricci E se il centro-destra ha peserese in calza sugli approfondimenti che abbiamo appena parlato il centro-sinistra si riunisce invece domani mattina alle ore 9.30 alle pronto soccorso in un sit-in di protesta contro le scelte del governo regionale in tema di sanità a cominciare da un pronto soccorso che viene sollecitato ad essere sfruttato in tutti i suoi posti disponibili che spesso rimangono inutilizzati ma è una protesta che si allarga anche a presunti ritardi e mancate risposte su un atto aziendale dell'Aste centro per l'autismo e ex complesso psichiatrico San Benedetto E quella che si terrà al pronto soccorso non sarà l'unica protesta delle sabato mattina pesarese alle 10 di mattina infatti un'altra manifestazione pacifica confluirà in Piazza delle Popolo A Portala saranno alcune famiglie che frequentano la scuola primaria Collodi di Via Ugolini che alla ripresa dell'anno scolastico si è presentata di nuovo sprovvista della rampa d'accesso per portatori di disabilità a lungo invocata dai familiari degli alunni E le insistenti precipitazioni di questi ultimi due giorni hanno perlomeno il merito di dare un'importante boccata d'ossigeno all'appreveggionamento idrico della provincia tant'è che l'importante risalita degli invasi delle territorie ha consentito al Comitato Provinciale di Protezione Civile di interrompere i prelievi di acqua dai pozzi del Burano e di Sant'Anna prelievi che erano costanti da inizio agosto E a prevenire la crisi idrica sarà anche l'ammodernamento della rete di condutture della provincia va in questo senso il progetto da oltre 27 milioni di euro di Marche Multiservizi che in questi giorni sta allestendo i primi cantieri finanziati da fondi PNRR Vediamo Parte il potenziamento della rete idrica della provincia Marche Multiservizi mette a terra il suo progetto da 27 milioni e mezzo di euro di cui 20 milioni ottenuti da fondi PNRR per bonificare e ammodernare più di 50 chilometri di condotte Dalla progettazione alla pianificazione ora si passa ai cantieri che dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026 come imposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Stanno cominciando i lavori proprio in questi giorni nei comuni di San Lorenzo in Campo Lunano e a Pesaro proprio per la bonifica di una parte della rete e a Pesaro tra l'altro con l'amministrazione comunale è stata concordata anche un'assemblea pubblica per illustrare il progetto perché comunque durerà diversi mesi i lavori lungo la rete stradale e ovviamente l'impatto con la cittadinanza e il traffico c'è quindi va bene anche sensibilizzare e rendere partecipi la cittadinanza di questo progetto chiaramente dicevo è un progetto complessivo che riguarda in parte la bonifica della rete che comporterà il rinnovo di circa 50 bare 60 km andremo a distrettualizzare dove è possibile la rete stessa e quindi con il lavoro di modellazione dei flussi nelle reti ovviamente ci consentirà di fare dei distretti e quindi ridurre quando è possibile la pressione nelle reti stesse quindi questo comporta e consegue il fatto che renderemo più resiliente più duratura la vita delle reti stesse e anche andremo a ridurre le perdite altra parte importante credo sia quella di rendere e andare a sostituire tutti i contattori teleletti per quanto riguarda le partite IVA andremo a sostituire nei comuni che gestiamo circa 13.000 contattori e questo consentirà non solo di avere una modernizzazione di questo strumento ma metteremo nelle condizioni anche gli operatori economici di avere un controllo in tempo reale dei loro flussi e quindi dei loro consumi questo è importante perché così si renderanno conto anche se sono efficaci e efficienti nella loro produzione nel loro ciclo produttivo o meno azioni che per Marche e Multiservizi vanno in una direzione aziendale di svolta rispetto alle politiche di gestione idrica di mezzo secolo fa quando si parla di una visione industriale di questa attività qualcuno si scandalizza ma non è una visione industriale che deve portare a un business secco deve essere una visione industriale perché oggi la qualità la situazione climatica con quello che comporta dal punto di vista della siccità delle alluvioni e anche l'inquinamento dei territori fa sì che sia necessario avere una visione che ci consenta di avere pochi punti di approvvigionamento controllati bene e gestiti nel modo migliore e restando sempre in tema di marche multiservizi si è conclusa la prima settimana del maxi intervento di pulizia delle caditoie su suolo pubblico voluta dal comune di Pesaro per prevenire i facili allagamenti durante le precipitazioni dopo una settimana concentrata sulle quartiere di Villa San Martino dalla prossima settimana l'intervento si sposta su sorie case bruciate come da calendario d'avviso ai residenti emanato oggi proprio dalle comune nella prima giornata di lunedì 16 settembre si puliranno le caditoie della strada panoramica adriatica di via Santinelli e via Betti dalle ore 6.30 alle 12 e il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini è stato eletto come nuovo presidente dell'Unione Montana delle Catria e delle Nerone Piccini è stato votato all'unanimità da sei sindaci delle comprensorio a completare l'aggiunta dell'Unione saranno il sindaco di Frontone Daniele Tagnani e il consigliere comunale di Acqualagna Luciano Magnanelli e l'associazione di Confcommercio Marche Nord 50 e più apre un tour della provincia alla scoperta dei suoi servizi e opportunità ne parliamo con la presidente Patrizia Caimi questo tour è voluto dal nuovo consiglio di 50 e più per farci conoscere meglio su tutto il territorio noi sul territorio della provincia di Pesaro Urbino abbiamo 3.200 associati però diciamo che vogliamo farci conoscere innanzitutto da persone nuove che a breve magari andranno in pensione o sono appena andate in pensione e quindi avranno bisogno del nostro sostegno come sindacato Enasco per le loro pratiche e poi dai vecchi diciamo associati da quelli che sono associati i nostri da più tempo per informarli del nuovo programma che vogliamo fare in questo quinquennio del nuovo consiglio noi abbiamo come Enasco e CAF una serie di servizi che sono l'assistenza fiscale l'assistenza legale e la consulenza come previdenza e poi anche molto altro perché ci sono tantissime situazioni che un associato può venire a chiedere per risolvere il suo problema e poi c'è tutta la parte cosiddetta ludica la parte sociale dove facciamo attività culturali attività sociali convegni per quanto riguarda la salute il benessere la cultura poi la parte ancora sempre che ci piace molto anche presentare facciamo delle bellissime gite la prossima sarà a Torino nel mese di ottobre viaggi con il sistema nazionale che organizza bellissimi viaggi e anche una volta al mese delle cene per cui insomma ci manteniamo in buona salute con tanta voglia di stare insieme e di portare avanti i nostri obiettivi e nelle giornate di domani e di domenica torna a Piobbico il festival dei brutti manifestazione della tradizione secolare nelle paese alle pendici delle Nerone che anche quest'anno eleggerà il nuovo presidente del club dei brutti festival con tanto intrattenimento fra il corteo dei brutti la festa delle cantine e il tradizionale paglio della damigiana e si avvia le battute finali la settimana da capitale al quadrato di Tavuglia domani le telecamere di Rossini TV saranno presenti all'evento conclusivo alle ore 21 in piazza Dante Lighieri con il concerto rock opera si tratta di uno spettacolo rock in e prima nazionale che ripercuore brani che hanno segnato la storia delle genere dai Pink Floyd ai Dire Straits fino a PFM e Eric Clapton sul palco una band capitanata da Cristian Cicci Bagnoli e accompagnata dall'orchestra Ensemble Rimini Classica e ad ottobre parte la stagione di prosa 2024 2025 di Amat che sarà preceduta il 20 settembre da una speciale anteprima Glauco Mauri uno dei più grandi artisti teatrali italiani porterà in scenile De Profundis di Oscar Wilde versione teatrale di una sorta di autobiografia che Wilde con la sua arte arguta e intelligente ha trasformato in una parabola universale della sofferenza del valore dell'arte e dell'amore e nel ricco programma di Pesaro Capitale della Cultura si apre un focus anche sulla decennale tradizione industriale di produzione e design di cucine Pesaro Capitale della Cultura 2024 ha aperto un focus sulla sua tradizione di produzione e design di cucine dalla Sala della Repubblica e del Teatro Rossini è partito infatti il primo incontro di un ciclo di appuntamenti denominato La Cucina delle Idee organizzato in partnership con l'azienda Scavolini e la rivista Interni Al centro della discussione c'è la cucina come fucina di creatività trasformazione e innovazione uno spazio domestico destinato alla conservazione e preparazione del cibo che si è trasformato in un ambiente multitasking punto di relazione del nucleo familiare cuore e cervello della casa La Cucina delle Idee è il ciclo di incontri organizzato da Interni la rivista di architettura e design che quest'anno tra l'altro storica che quest'anno compie 70 anni e da Scavolini in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 20 e 24 il tema è appunto la cucina di idee nel senso che la cucina ormai è un ambiente che intercontinua trasformazione sia dal punto di vista sociale culturale e anche dal punto di vista pratico quindi attraverso tre incontri che si avvicineranno tra quello di oggi che è del 12 settembre e poi in ottobre l'11 ottobre e il 22 di novembre Il primo appuntamento è stato dedicato al tema della cucina legata al progetto che la sorregge Insegno architettura degli interni e Politecnico di Milano e mi sono occupata della cucina dal punto di vista storico ho scritto un libro qualche anno fa e oggi diciamo faccio un escursus molto rapido su quello che è la storia della cucina e dello spazio della cucina su cui dei designer molto famosi come Fabio Novembre che parlerà dopo di me stanno lavorando alacremente e noi come interni celebriamo quest'anno un importante anniversario che sono i 70 anni che hanno seguito l'evoluzione del progetto di design ma anche l'evoluzione del gusto e qui stasera parliamo proprio di progetto e di trasformazione di uno spazio che è importantissimo nella casa e quindi del progetto dell'ambiente cucina ma anche Scavolini con più un importante compleanno sono i 63 anni poi con Fabiana Scavolini abbiamo già un lungo rapporto di amicizia quindi tornare a Pesaro dopo l'anno scorso e poi Pesaro quest'anno è la capitale della cultura e noi con Pesaro capitale della cultura abbiamo fatto un bellissimo evento a Milano durante il fuori salone che abbiamo portato a Milano alla Sfonosfera e l'abbiamo portata all'Università Cattolica del Sacro Cuore con un grandissimo successo poi invece appunto ad ottobre affronteremo il tema della cucina generazione Z quindi come i giovani possono pensare immaginarsi la cucina e anche viverla e infine appunto a novembre il 23 di novembre progresseremo sul tema della cucina italiana nell'ambito della internazionalità quindi come il mondo della cucina in particolare chiaramente parlando anche del progetto di Scavolini sta diventando un punto di riferimento anche a livello internazionale ed era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Rossini News prima però di lasciarvi alle previsioni delle meteo vi ricordo la programmazione in onda sul canale 80 si parte subito con la natura dalla cultura magazine in questa occasione potremo rivedere il servizio dedicato a Peglio e il suo vivaio che si fanno capitale con il progetto 50x50 di Pesaro 2024 questa sera alle ore 20 e poi vi ricordo di riassunto della settimana nel weekend sabato 12 e 19 domenica alle ore 15 e alle 21 la nostra prima serata prevede estate capitale nel nostro programma dedicato all'estate di Pesaro 2024 questa sera penultima puntata alle ore 21 e 20 la tredicesima che parla del San Pietrino Summer Street 4.0 un San Pietrino appunto come c'è scritto da capitale e a seguire sempre questa sera alle ore 21 e 40 non perdetevi il nostro speciale tv dedicato ad una disciplina sportiva bellissima ed interessante perché andremo con il nostro Paolo Pagnini a scoprire le attività del paintball candelara io vi ricordo come di consueto il nostro appuntamento con la Rassegna Stampa domani mattina in diretta alle ore 7.20 la Rassegna Stampa dei quotidiani locali buongiorno Rossini a farvi compagnia ci sarà il nostro Antonio Astuti ed è davvero tutti io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon fine settimana e una buona serata per la Rassegna Stampa